dopo signor io andavo a prendere però non ce la fa prendere ha detto come fa? come fa? come fa a prendere? come fa a prendere? che sta giù? che sta giù? c'è il spirito? no 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 sta scherzando come no? devi dire scherzando? no 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 ho detto la metti dentro il spirito accendere il spirito come la succhia? no io levo signor? no Ariel ho messo bene la puncchia lì? la puncchia? c'era pure puzzante puzzante? puzzante no puzzante? puzzante ecco il piede ma pure il piede è puzzante ma altre volte ma quello non c'entra niente Ariel dopo ho messo dentro la... tutto dentro la... no ti prego no stava giusto giusto sopra scuola giusto giusto alla radio lì segno? alla radio lì no? quello accese? no come l'accese ha fatto... no si è stampato segno? no tutta l'acqua fuori segno? no tutta l'acqua fuori segno? no! tutta l'acqua tutto si svolta nel lato? fuori di... tutto si tutto si svolta nel lato? quasi tutta l'acqua? quasi tutta l'acqua? è rimasto così? come così? e i pesci? i pesci? i pesci? i pesci? non ce l'ha affatto segno? e chi quando ha messo... spiri polveri dentro l'acquario? ha fatto... sono brutti a galla come i gnocchi sopra... ma quello... quello grande... quello rotondo con la pinna dorata... con gli occhi a palla... quello fatto a forma di palla... con il baffone... quello rotondo l'ha fatto un po' così... poi si è sbappato... no! che le cazzo mi gli arrivano a zero... ma come sono i rotondi a zero? no! bichi rantolava, rantolava, rantolava segno... dopo ha sbappato segno... ma come fa a rantolare il pesce rotondo? bichi se è rotondo lo rantola segno... scusa... ma che rotondolo? che rantola? se è rotondo ruota! non rantola! rotola! oh! ha mai sentito un pesce che fa... aiuto aiuto... venitemi a salvare? no! eh! si è andato in silenzio... si è andato in silenzio! ma tu hai idea di quanto costano i pesci? tropicali? al chilo! e mica deve arrabbiare... io l'ho presa e l'ho messa in piatto e l'ho messa a pigli ripari... se vuole mangiare stanno a pigli ripari... ma tu sei un pazzo... a te risulta che io mi mangio i pesci tropicali... ma devi mangiare i tuoi pesci tropicali! io l'ho mangiato e tu l'ho mangiato... ma come l'hai mangiato e tu l'hai mangiato? signor tu hai detto... quando c'ha fame... aveva i pigli ripari e mangia quello che c'è... c'era il pesce... ha mangiato il pesce... io scusa... e perché il ferro tastino te lo sei mangiato? i pigli non mi piacciono... vabbè Ariel... per favore... dopo signor sono andato alla chiesta a prendere la paparella... io voglio dire a te signor che io quando finisci a lavorare devo finire a lavorare e va via... tu! lei già dopo va a prendere la paparella per te signor scusa... ma chi ti ha detto di andare a prendere la paparella? io l'ho detto... ha chiesto a prendere la paparella... primo c'è il vigile che non vuole che prenda la paparella... vigile non ha vigile... no signor vigile lui è venuto da me quando io volevo dire la paparella... ma come dovrei venire dalla paparella così? e lui mi ha detto... no! non si fa! no! no! io ho detto... ma il signore mio ha detto... ha detto... non si fa... non si fa... il vigile? io se no ho fatto la multa signor... la multa? multa signor... io gli ho detto... va bene... va bene... se io senti che la prendi la paparella... la prendi la paparella... ma non mi hai detto che prendi la paparella... ma che c'entra la paparella? aspettate che vanno via i vigili signor... ha aspettato che fanno furbo... e quando mi avvicinavo la paparella... scappa... allora io che ho preso la colla... ho messo la colla... ma com'è la colla? è tutto foglio... ti sei incollato le foglie addosso? pieno di foglio... ma perché? sembrava un cespugno... dai cespugno... ha detto così... fa cespugno... se fa cespugno... quando la paparella dice lui e cespugno... si avvicina... perché la paparella dice lui e cespugno... e quindi si avvicina... come si avvicina dalla paparella... io signor... l'ha preso... ci ha messo il cappuccio nero in testa... hai rapito un pavero? si signor... ho messo il cappuccio così... se scappa... non te l'ha passato a tenere niente... ma riconosce la strada? dopo gli ha levato la cappuccia... l'ha messo per te... e gli ha volato le cinghie a noi... ma come le cinghie? no... prima gli ha messo il sugo... sugo? che è il sugo? la suppata tutta di sugo... la suppata di sugo? la suppata di sugo? la suppata di sugo? c'era la secchia con... il sugo al pomodoro? se c'era la secchia di sugo... con la suppa di sugo... ma come? ha preso la papera... l'ha suppata come... come il savogliardo? però gli deve tenere la becca fuori... sennò si è fuoco... ma a me che facevo? eh? tutto questo a me che facevo? ma zitta i picchieri... le va la becca di sugo... ma come? la suppa di sugo... si signor... dopo l'ha messo per te... le vuole dare cinghiate... nooo... non si prendono le cinghiate di animali... la papera non si prende le cinghiate... Ariel... signor... tu hai detto di fare paparelli con sugo di cinghiate... non l'ha detto io... scusa eh? io mi chiederei da le cinghiate... perché io mi fa bene... ma... c'era la papera... 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 stava là signor... stava là... e che faceva? l'angoletta piena del sugo... lo faceva qua... qua... ma se stava lì... faceva qui... ah? io mi c'era prato le cinghiate... dai io le 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 cinghiate... no... cantini... no... se ti piace mangiare la papana... ventino la mette al cuore... devi dare le cinghiate con fuori... ci siamo sbagliati... non c'entra la paperella... ma non gliele dà le cinghiate... ma non gliele dà le cinghiate... ma non gliele dà le cinghiate... te né io... nessuno deve dare le cinghiate... io la prese... povero animale... gli ha detto... io le cinghiate... non te le dà... poverino... mi piace... perché ti mi fa pena... perché ti fa pena... finalmente un po di cuore. Adesso ti metto a figli riferi. No! Quando viene il signore mio le cinghiette di ridare. No! L'ha presa, l'ha messa dentro a figli riferi e ha chiuso spuntello. E ha chiuso spuntello. Dopo voleva andare via, però quando è andata via io sentiva l'umore e ha detto che è? Che è? C'era purella che ha detto a figli riferi c'ha freddo. C'ha freddo. Io ho messo l'orecchia e faceva così, faceva qua, qua, qua. Hanno detto come fa? Come fa? C'era... Gli voleva prendere con la spiropolveri come l'asciuta. No! Ma come fa a asciugarla con l'aspirapolveri? L'aspiri con l'aspirapolveri? No, la spiropolveri è svampata. È svampata. Ecco, come fa? Come fa? C'è la stufa elettrica dentro l'amore. La stufa elettrica quella l'ho comprata da poco. La camera 2 gli ha preso la stufa elettrica, l'ha accesa, l'ha messa nel tappo di riferi, ha chiuso la spuntella. No! Svampata il secondo frigorifero. Il secondo frigorifero. Con lo glosso che sta giù, signor. Con la cella frigorifera, con il congelatore. Con lo glosso. Con il dispenser, quello che c'era l'intercooler. Ah sì? Sì! Fa male! Fa male! Fa male! E quello fa male se mi gliela chiamano. A te ci vediamo il giudizio signor. Signori Max Faiola! Marco Manzocca! Grazie! Marco Manzocca! Grazie ancora! Grazie le mie abbracce, le veritate! Che per noi sono la benzina che si mandano avanti più dalla fine del spettacolo. Grazie! Buonanotte e buona ! Grazie a tutti! Buonanotte e buonanotte! Buonanotte! Buonanotte e buonanotte! Buonanotte e buonanotte! Buonanotte e buonanotte! Buonanotte! Buonanotte alle att Agentopoloni e andere a Eduna covered wurde with l proporzione. Con per noi che ha изб Тут ètiva 에 Erop degrairano all수가 tue uno i spottobacs sonoocki, I maestri di Davide Padella, Paolo Bubioti. Altro amore, il maestro Carlo Piermatire. Saxo contro l'attornamento di Fabio Marziani. Altro amore per voi, il maestro Luca Giardini. Marziani con Dante Contelli. Grazie a tutti. Allora facciamo ancora un applauso a Marco Marzocca, grazie mille. Se vi piacere, vi vi riparte. Grazie mille.